Ultimi giorni per lo stage della Uno Lab, ancora due tecnici a raccontare di questo progetto. Devo ringraziare Giancarlo Peana e Michele Pintauro perché da diversi anni ormai collaboro e lo faccio con gioia con questa associazione che credo che sia, anzi ne sono sicuro, la prima in Sardegna a portare avanti un certo discorso della preparazione dei portieri, una cosa molto ma molto importante perché moltissime società ancora non credono nel preparatore dei portieri, vedere tutti questi bimbi pieni di voglia mi riporta ai tempi quando io ero qua in paese e vivevo di sogni, vivevo di speranze, vivevo nelle strade, allora la tecnica si faceva con il muro e speravo in un futuro. Ci sono delle qualità, bisogna lavorare, noi stiamo cercando di inculcare questa mentalità, il portiere dell'epoca come il pugile deve soffrire, deve prendere i cazzottoni, deve reagire, deve imparare il sudore, la goccia che scende e quello che stiamo facendo è cerchiamo di trasmettere questo a loro perché senza di questo non impari, non migliori e la nostra esperienza la mettiamo a servizio dei ragazzi.